Non ho capito. Concluso il primo appuntamento. Che è il primo appuntamento? A Italia Shore sono stati folli e divertenti. In una parola, pazzeschi. Ma sappiamo tutto di loro. Hai mai fatto sesso di gruppo? A tre, vale. Si? Ah, si. Hai mai fatto cilecca? Cilecca in che senso? Si? Si, si, si. Hai mai fatto l'amore davanti ad una telecamera? Del telefono mio, si. Hai mai voluto conquistare qualcuno qui dentro che era già conquistato? Hai mai concluso il primo appuntamento? Non ho capito. Concluso il primo appuntamento? Che c***o? Il primo appuntamento? Vabbè, cioè. Lo fanno, lo fanno. Hai mai fatto sexting? Cos'è? Cos'è? Hai mai fatto sesso in un luogo pubblico?